Perchè si mio mardaff e oggi siamo qui su Stupid Zombie 3 Questo vuol dire che c'è un 1 e un 2? Spero di no Direi di andarla a provare L'ho trovato sul playstore e sembrava carino Ma non lo so Ma quanto sei bella Wow ma dobbiamo sparare gli zombie che... Si sono stupidi perchè non si muovono Ma è morto da solo quello Ho fatto la strage con un colpo What the fuck No che figata devo riprovarlo Ok cosa dobbiamo fa... Allora dobbiamo fare una cosa molto tattica No non li abbiamo beccati tutti Oh oh ma ce ne sono altri Come faccio io a beccarli ora? Tra l'altro io non credo che un proiettile faccia tutte ste cose Però va bene Dai dai che ci riusciamo Dai Oh 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 ne prendo due Vai Comunque questo proiettile non è un proiettile è una palla Dai dai che ne prendo altri Ma dove cacchio va il proiettile? Ok due proiettili rimasti Ma tra l'altro escono dalle cabine del bagno Ma che cacchio hanno si zombie sono veramente stupidi Ok l'ultimo proiettile credo Dai tutte e tre Wow mamma mia Vediamo se faccio così No mi sa proprio di no E se faccio così No No non ha funzionato Ok si si sei figo va bene Vai Qui facciamo esplodere il mondo Vai No non li abbiamo proprio beccati tutti Oh Oddio quanti gli ho Guardate Gli è passato addosso Ma che cacchio è sta roba Due colpi rimasti Dai beccati un altro Sì Sì È volata una testa Vediamo Oh No beccati Sì Oddio quanti gli ho beccati Vi ricordo che sempre con un proiettile St'arma è magica Guardate quanti Come cavolo faccio a beccarli Ah ok così Vediamo se funziona Oh 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 No Ne mancava uno Guardate quanti ne becco Guardate quanti Ok Ma tra l'altro lui li tocca e muoiono Allora che cavolo serve l'arma Se li tocchi e muoiono Ok proviamo a fare una cosa molto tattica Ta 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 Mamma mia quanti li ho beccati Ti dà una soddisfazione beccarli Che è una meraviglia Ok allora Cosa possiamo fare qui Vediamo se così No Ehm Così dovrebbe rimbalzare Lì sopra E poi andare giù No Proviamo Oh 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 Funziona Qui faccio una strage Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Babba mia Oh Sette Otto Babba mia Sti proiettili Quanto li amo Due colpi rimasti Ok ok Concentriamoci Uh così ne becco un bel po' Proviamo Tre Quattro Cinque Sei Dai No E proviamo Proviamo così Uno due Tre Quattro Quattro Che schifo No Sinceramente Non mi sta piacendo Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate ed iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Beh ragazzi Oh Non c'è mai una gioia Perché Claudio Perché non mi porti mai Qualcosa di bello Tipo una legge